Presentazione in grande stile per la nuova edizione del Maggio dei Monumenti a Napoli, che quest'anno assume un significato particolare. La manifestazione raggiunge il ventesimo anniversario e rappresenta il primo grande evento finanziato dal Forum Universale delle Culture. Dal 1 maggio al 1 giugno, i più bei luoghi di interesse storico, artistico e culturale si apriranno a cittadini e turisti con un programma di iniziative sul tema storie e leggende napoletane, ispirate all'omonimo testo di Benedetto Croce. Storie e leggende di Napoli, Benedetto Croce nasce da una serie di manoscritti scritti in tempi diversi. Molti di questi li abbiamo noi e li esponiamo per farli vedere. Diciamo che noi ci siamo abituati al croce filosofo, al croce storico, al croce critico d'arte. Qua è un croce innamorato, è l'amore di croce per la città di Napoli. E quindi attraverso queste sue leggende che tradiscono il suo amore, si ricostruiscono i luoghi da visitare quando inizierà il percorso dei Napoli dei Morandi. Mostre, spettacoli, concerti e visite guidate animeranno i 5 fine settimana di maggio, mentre proseguiranno fino al 30 giugno le iniziative nell'ambito del Forum. La soddisfazione più grande è vedere che ormai Napoli non è più attraversata dai grandi eventi. Napoli sta vivendo ogni giorno una vita nuova, che è la vita della cultura, della musica, dell'arte. Ovviamente si deve abituare alla città, si devono abituare i cittadini, è una grande sfida e noi vogliamo e faremo sempre di tutto perché tutti gli spazi, non solo le piazze più belle come Piazza del Plebiscito, ma tutti i luoghi della nostra città possano essere vissuti e non devono essere chiusi a chiave. Questo è un modo per, come sempre accadono in maggio, perché i cittadini si riappropriano dei grandi valori culturali, storici, architettonici di Napoli e del suo centro storico patrimonio dell'umanità. Io lo chiamo il maggio del Forum perché ciò che Benedetto Croce rappresenta è in qualche modo, direi, uno dei punti più universali della cultura di Napoli. Nella Sala dei Baroni, al Maschio Angioino, oltre al Sindaco De Magistris e all'Assessore alla Cultura Nino Daniele, sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni culturali che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa e di giovani allievi dell'Accademia di Belle Arti che anche quest'anno hanno realizzato la campagna promozionale del Maggio dei Monumenti. L'Accademia sta diventando un centro di aggregazione ma anche di propulsione perché noi riteniamo che l'arte possa essere una possibilità di trasformazione della città in senso sociale e in senso di essere, di personalità.